Tutti da sull'autore, ecco qui una grandissima sorpresa degli attori della nazionale italiana attori e ecco qui per Saletta hanno ricevuto l'attestato di riconoscimento dalla Norman Academy per merito, onore al merito umanitario. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Forza Saletta e tutti i territori che hanno abiturato di coraggio e soprattutto di tanti contributi da tante persone. Grazie. Ciao, ciao.